Musica Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Oggi è martedì 24 novembre 2015 e questa è la rassegna stampa come sempre in diretta Un cordiale saluto anche a chi ci segue in replica Allora subito il santo del giorno, lo vediamo oggi, la beata Anna Maria Sala Il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramonterà alle 16 e 36 minuti Il tempo per oggi avremo un cielo nuvoloso con attenuazione della copertura Dalla tarda mattinata con parziali schiarite nel corso del pomeriggio Durante questa notte sono stati alcuni rovesci che si stanno esaurendo in queste ore Sia nella parte centro meridionale della regione e nell'urbinate Le temperature di oggi sono in aumento, le minime e le massime invece saranno in lieve diminuzione Attenzione il mare sarà mosso, per domani un leggero miglioramento Prima di un nuovo cambiamento del tempo, lo vedete, le temperature sono in diminuzione Le massime sono stazionari, avremo cielo nuvoloso Ma ecco giovedì che cambia il tempo Tornano le piogge, torna addirittura la neve nell'entroterra Con precipitazioni che saranno anche a carattere di rovescio in particolare nell'entroterra Le temperature minime sono in lieve aumento, mentre quelle massime in lieve diminuzione I venti sono moderati nord-orientali con raffiche fino a vento fresco sulla costa Poi per quanto riguarda il fine settimana, il fine settimana sarà un tempo buono Mentre venerdì ancora sarà variabile e perturbato Allora ci sono diverse notizie questa mattina Ci sono diverse notizie questa mattina sui giornali Naturalmente la cronaca la fa da padrona Ma c'è anche spazio per banca delle marche Per esempio, allora cominciamo dal resto del Carlino La pagina di Fano intanto La pagina di Fano apre con il Natale Il Natale che sarà un Natale più Un Natale più per i fanesi Ci saranno mercatini, ci saranno spettacoli, solidarietà Si parte il 28 con l'accensione delle luminari Il 28 di novembre L'attrazione è il presepe di San Marco Un presepe che se non l'avete visto vi invito a vedere perché è davvero molto bello 350 metri quadrati e 50 diorami È un presepe sul quale ci si lavora tutti gli anni, da anni Ed è un'opera straordinaria che va assolutamente visitata Sabato 28 novembre, dicevo, c'è l'accensione di queste luci natalizie Domenica 6 dicembre alle 5 e mezzo del pomeriggio Invece verrà acceso l'albero di Natale Questo albero di Natale che già vedete qua in miniatura Sarà un albero di Natale diverso rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere L'abbiamo già ricordato, un albero di Natale artistico in legno Sarà a Fano, dicono quelli della Proloco Sarà un Natale a Fano come non si vedeva da molti anni L'altra pagina invece del resto del canino di Fano Vedete la fotografia Giù l'ex matatoio di Via del Fiume La città si sta liberando dall'amianto Nell'area che per ora sarà adibita a parcheggio Potrebbe sorgere addirittura la nuova piscina Torna in auge questa piscina Della quale si è parlato per anni Doveva essere fatta la trave Invece adesso spunta qui nell'area dove un tempo sorgeva l'ex matatoio In quattro mesi raggiunto il risultato Dice il sindaco Massimo Seri insieme agli assessori Che ieri erano sul posto L'ambiente per noi è una priorità Così Madame Butterfly vola su Fano Lo spettacolo, il debutto giovedì sera al Teatro della Fortuna Il regista Pierluigi Pizzi Donata ad Annunzio Lombardi Soprano dall'incantevole voce Sotto invece gli sbancati due Parte la prevendita in programma dal 6 dicembre Nelle sale di Fano Saranno dieci giorni di proiezione Sia al Politeama che al Malatesta Il film del regista R. Secchiaroli Sarà nelle sale fanesi dal 6 al 16 dicembre Poi diventerà itinerante Un po' come lo sono state le riprese in giro per tutta la provincia A Orciano invece A Orciano lavoragine Lavoragine di Via Kennedy Aperta fino a maggio Battaglia assicurativa in atto La provincia ci mette 100.000 euro Occorre però fare tutto entro l'anno Poi dramma Un dramma che si è consumato Sotto gli occhi di decine di viaggiatori Sia quelli che stavano già sul treno Ma anche quelli che si trovavano fermi alla stazione di Marotta Una donna, una romena di 62 anni Si è tolta la vita buttandosi sotto un convoglio La tragedia ieri alle 14.50 Sotto un treno, appunto sotto un regionale Che era appena partito Che appunto non ha potuto far niente Nel macchinista né una persona che si trovava lì sopra Che ha tirato il freno d'emergenza Nulla, purtroppo la donna è morta immediatamente Adesso l'altra pagina invece L'altra pagina del resto del Carlino Da Sant'Angelo Invado Muore una giovane mamma Che di professione faceva lo chef Sant'Angelo Invado Un'improvvisa scomparsa Quella di Elena Tirabelli La vedete in questa bella immagine Un altro lutto pesante Come un macinio che si è abbattuto Sulla comunità di Sant'Angelo Invado Ieri mattina è morta Elena Tirabelli 36 anni, ristoratrice notissima Nella cittadina metaurense Dove la sua inaspettata morte Ha gettato la famiglia e i tanti amici Nello sconforto Tra l'altro aveva fatto anche delle presenze in televisione Si legge sul giornale di questa mattina Elena lascia una figlia di 9 anni Il funerale probabilmente mercoledì in cattedrale Ok, questa è la pagina di Sant'Angelo Invado Adesso invece chiudiamo con quella di Pesaro Il mare, spiaggia tartarughe Rinvenuto un altro esemplare Le cause più che il freddo la pesca Così sostengono quelli della fondazione cetacea di Riccione Poi vedremo invece sul Corriere Adriatico Il professor Piccinetti parla esattamente al contrario Dicendo che, e lo vedremo tra poco Che le cause sono invece dovute al freddo Invece le tartarughe Secondo questa fondazione cetacea di Riccione Le tartarughe ritrovate in questi giorni Probabilmente sono morte a largo E sono state spinte a riva dalle mareggiate Ma le cause di morte Nella grande maggioranza dei casi Sono legate alla pesca Con reti a strascico E da posta Sotto invece c'è questa notizia Che riguarda un 24enne Un 24enne albanese di Monte Calvo Che a un certo punto si è recato al pronto soccorso E ha detto Mio padre mi ha avvelenato È arrivato di primo mattino Con dolori acuti Ha chiamato i medici Mio padre mi ha avvelenato Ha detto loro Insomma i sanitari hanno capito Che trovarsi di fronte a una persona Che doveva spiegare molte cose I carabinieri hanno scoperto Che poi in realtà Aveva detto una stupidata Una bugia Che era tutto inventato Il giovane adesso deve rispondere Di calugna Era semplicemente ubriaco Adesso apriamo il Corriere Adriatico La pagina di Fano Due opzioni per l'Istituto Cecchi Il sindaco presenta al preside Alla provincia il piano A per il Codba E il piano B per il Battisti Poi anche qui sotto È iniziata la demolizione del mattatoio L'intervento dopo la bonifica dell'amianto Volto a favorire la vendita dell'area fabbricabile Ossigeno per mare e pesca La riduzione della taglia delle vongole All'esame dell'Unione Europea Frutto di studi fanesi Quindi se passa questa Se l'Unione Europea approva questa cosa Insomma si potranno pescare vongole ancora più piccole Quindi sarà una boccata di ossigeno per tutti Ecco qua la notizia che vi dicevo prima Morì a di tartaruga in spiaggia Per Piccinetti il fenomeno causato dall'affreddamento È assolutamente naturale Dice Piccinetti in questo periodo Quindi non ci sarebbe alcun segnale di allarme Il ritrovamento di queste carcasse Coincide con il raffreddamento delle acque marine Le tartarughe cercano di andare infatti verso sud Dove l'acqua è più calda Ma non riescono a sopravvivere al freddo e alle mareggiate E quindi le mareggiate le portano a riva È anche vero così come sostiene la fondazione Adesso per carità non sono esperto Quindi non mi metto nel dibattito Però diceva che fino a qualche giorno fa L'acqua in realtà ancora era a 17 gradi Il freddo è arrivato soltanto qualche giorno fa Quindi insomma un po' improbabile che sia il freddo Lavori utili invece in cambio di tasse Approvata all'unanimità la mozione sullo scambio amministrativo Sarà predisposto un regolamento Per disciplinare la proposta dell'Udc e di progetto Fano Che appunto è stata approvata all'unanimità del Consiglio Comunale Quindi uno lavora e paga in cambio Il Comune gli fa uno sconto Diciamo tra virgolette Sulle tasse da pagare Poi la pagina di Fano e Vale del Cesano Lettera del Sagrestano a Papa Francesco L'ha spedita in questi giorni il suo avvocato Cioè l'avvocato del Sagrestano Giuseppe Ferri è il Sagrestano Mentre Fabrizio Dini è l'avvocato che ha spedito questa lettera al Santo Pare Giuseppe Ferri è di Fossombrone Chiede l'intervento del Papa Per riparare una grave ingiustizia che lo riguarda Poi sotto ancora la cronaca Poi da Cartoceto invece Fondi per il Centro Sociale Enrico Rossi il sindaco di Cartoceto Mantiene la promessa Sono stati stanziati 15.000 euro per la struttura Delicata e riservata agli anziani Andiamo sulla pagina di Senigallia Adesso un operaio che è stato travolto Da un bancale carico di scatoloni Il magazziniere del Bricoferra Anconetano È stato trasportato a Torrete con l'ambulanza Il primo aiuto è arrivato dai colleghi Sotto invece i ladri rubano gioielli e gasolio Doppio colpo a Vallone e Bettolelle Forse la stessa banda che prende pure la bicicletta E poi l'ultima pagina invece Quella penultima pagina Anzi quella di Pesaro Neve 430.000 euro fino al 31 dicembre È stato attivato il piano per l'emergenza Per la macchina mantenuta all'impostazione Dell'anno scorso Le priorità della provincia È quello di acquistare le scorte Di conglomerato e chiudere le buche Nelle strade Poi l'ultima pagina invece dicevamo Quella di Pesaro riguarda la sanità Area vasta, 10 anni di gestione particolare Il COESMAR che interviene Sull'avvertenza trasporti sanitari La soluzione? Applicare la normativa Il nostro sostegno agli autisti Del pesarese che dallo scorso mese di luglio Non percepiscono lo stipendio Torniamo a chiedere con forza Che le tutele siano garantite anche all'entrata di altre associazioni Adesso il messaggero Il messaggero naturalmente apre anche oggi Con la nuova banca delle marche Fiducia e rabbia L'amministratore delegato Goffi E il presidente Nicastro Scrivono ai dipendenti Balzo in classifica di ultimi posti Fondazione, piccoli azionisti Perdono invece un miliardo e mezzo A Pesaro, Sabatini passa il testimone Chi è Sabatini? Andiamo a vedere subito Eccolo qua sempre dalle pagine interne Del messaggero È il presidente della Cassa della Fondazione Che appunto passa il testimone La Cassa degli Spermi di Pesaro Si prepara uno storico avvicendamento Nel momento più complesso della sua storia Gianfranco Sabatini Storico presidente della Fondazione Carisp Pesaro Dall'87 al 94 Vertici dell'allora Carisp Poi dal 94 al 2000 ha ricoperto il ruolo Di vicepresidente di Banca delle Varche Dopo 15 anni e 3 mandati La presidenza passa l'attuale vice Marco Cangiotti Il CDA si riunisce il prossimo 4 di dicembre Sulla pagina invece 36 di Pesaro Del messaggero Così San Bartolo diventerà il regno del cicloturismo La strategia dell'assessore De Regis Per valorizzare il colle e dare impulso Alle presenze dei visitatori Il maltempo preoccupa invece E alla foce del foglia Torna la ruspa per liberare il fiume dai detriti L'area vasta fa litigare il PD e il centrodestra Ancora nessun accordo tra gli amministratori Su chi nominare presidente della conferenza dei sindaci Baldelli che è il sindaco di Pergola Boccia la proposta del ticket Lanciata dal segretario del PD regionale Gostoli E l'ultima pagina invece è quella del messaggero di Fano Ha battuto l'ecomostro L'ex mattatoio Un intervento storico A seguire l'operazione Il sindaco Serri Gli assessori mascherini e fanesi Eliminata la presenza di Emianto Ora si pensa al futuro dell'area Ruspe in azione ieri mattina per la demolizione L'edificio abbandonato che un tempo ospitava appunto il mattatoio Mentre dopo torna alla carica il movimento a 5 stelle Che chiede le dimissioni del presidente della fondazione di Fano Della cassa di risparmio di Fano Fabio Tombari Il presidente deve dimettersi La decisione del passo indietro sarebbe il giusto epilogo Secondo il gruppo di 5 stelle Della vicenda Banca delle Marche Su scala locale Poi naturalmente tornano a spiegare Il perché di questa richiesta di dimissioni Poi si asfaltano le strade Lavori per almeno tre settimane L'ASET effettua nuove asfaltature Ci sono le vie che sono interessate Da questo nuovo intervento Se siete interessati e volete conoscere Sono pubblicate anche qui sul quotidiano Ce l'abbiamo anche noi sul nostro sito internet Poi sotto invece in fondo alla pagina di Fano del messaggero Il Black Friday lancia lo shopping di Natale Venerdì prossimo per invogliare i clienti agli acquisti I negozianti proporranno sconti e promozioni Ok, è tutto allora Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa Non c'è altro Noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia E vi ricordo che c'è il nostro sito internet Occhio alla Notizia.it Come sempre, sempre aggiornatissimo Con tutte le notizie dell'ultima ora Non mi rimane altro che augurarvi una buona giornata Arrivederci